Il Cardinal Ravasi oggi le ha fatto notare che lei ha giurato sul Vangelo e il Vangelo dice cose un po' diverse da quelle che lei dice in questi giorni. Io mi ricordo che Papa Benedetto diceva che prima del diritto a emigrare c'è il diritto a non emigrare. Il mio obiettivo è garantire sicurezza e vita prospera nel continente africano a questi ragazzi che pensano che in Italia ci sia il ben godi, in Italia non c'è il ben godi. Lei pensa di essere coerente con gli insegnamenti del Vangelo, scusi io lo chiedo ma lei ha giurato sul Vangelo e su quel rosso? Umilmente sì, da primo dei peccatori e da ultimo dei buoni cristiani sì, quel rosario ce l'ho ancora in tasca, mi accompagna sempre e quindi non pretendo di dare lezioni a nessuno però penso che oggi abbiamo fatto qualcosa di bello.